Salve a tutti cari amici, sono il ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Vi voglio fare ascoltare un audio messaggio mandato sulla mia email vittime del controllo neurale chiocciolagmail.com Questa ragazza ha visto ed ha ascoltato delle interviste e testimonianza sul mio canale di Youtube Angeli Custodi MK Oltre Italia e sul mio secondo canale di Youtube Emiliano Babilonia. Dopo che ha ascoltato le interviste delle altre vittime sottoposte a torture fisiche e psicologiche e lavaggi del cervello ha voluto mandarmi questo audio messaggio. Buona ascolta amici. Ciao Emiliano, ho seguito i due video caricati sul tuo canale Youtube e sull'area tuo web. Sono lieta di aver avuto l'occasione di seguirti perché comunque parli in modo molto diretto, sei chiaro, sei sintetico e spero che altre persone come te seguano il tuo esempio. Allora, ho deciso quindi di contattarti per cercare di mettere insieme le idee per cercare di vederci sempre più chiaro. Spero poi di avere un confronto successivamente. Ho visto alcuni video, ma non tutti perché ho visto che ce ne sono davvero tanti. Ti faccio i complimenti per il tuo coraggio e il coraggio che hai di denunciare il sistema. Io mi chiamo Filomena, abito nella provincia di Caserta e ho 28 anni e anche io come tanti, come tanti altri, sono stata bersagliata da questi manipolatori della società. Non mi piace definirmi una vittima e in assenza di un altro termine, un termine migliore, mi definisco una cavia. Ho ascoltato le testimonianze di altre cavie del controllo mentale da te intervistate e so che quello che dicono è vero, perché anche a me accadono cose analoghe. Evidentemente, perché come dici, il programma è lo stesso per tutti. In questi anni in cui sono stata attaccata ho molto riflettuto sull'intera faccenda e ho osservato molto il comportamento anomalo delle persone che mi circondano. Ho notato strane coincidenze. Fortunatamente io personalmente non ho mai sentito le voci nella testa, non ho mai avuto allucinazioni, però le persone a me care sì. Spero che comunque questa conversazione, questo audio sia gradito. Comunque la mia intenzione è quella di riuscire a mettere insieme i pezzi di questo intrigato puzzle. Allora, quello che penso è che non veniamo scelti a caso. Secondo me veniamo scelti in base alle nostre caratteristiche. Quello che ho capito è che questi criminali dispongono di stratagemmi che consentono loro di valutare il livello evolutivo delle persone. E le persone più evolute hanno un'aura più luminosa della media. Questo cosa significa? Significa che si diventa appariscenti e quindi si è anche maggiormente visti. Queste persone sono quelle che poi vengono attaccate e sono anche i cosiddetti punti luce perché comunque vengono viste ed emanano un'aura più luminosa. Questo disturba questi loschi intenti dei manipolatori perché interferisce con il loro subito proposito di abbassare la frequenza globale del pianeta. Altro proposito, ricordo un mio episodio personale in cui mia sorella, mia sorella più piccola durante uno di questi attacchi perché comunque è stata attaccata anche la mia famiglia e in questo attacco ci erano andati giù parecchio pesante infatti abbiamo dovuto mandarla a TSO comunque mi urlò contro prima di tutta una serie di altre cose che mi urlò contro tu hai portato la luce e urlava poi di continuo il mio nome quindi questo va a confermare quello che io ho teorizzato prima che comunque molto probabilmente attaccano le persone che emanano questa luce che poi è il sottoprodotto di un'aura più estesa, più potente probabilmente è una delle ragioni per cui decidono di attaccare una determinata persona. Io per esempio faccio anche pratica di Reiki che è una tecnica di guarigione olistica che fa proprio uso della luce che si riesce a canalizzare tra le mani e penso anche che le persone con un livello evolutivo avanzato hanno un campo elettromagnetico potente quindi anche questo si riesce a vedere con le tecnologie che possiedono e questo tipo di persone fanno sì che diventino quelle più malate più impure e che vivano peggio degli altri cioè proprio queste persone devono essere quelle che vengono brastagliate direttamente perché non basta già il sistema che hanno creato con l'istruzione che crea disinformazione con i mass media con la manipolazione genetica con il cibo con la psicologia del terrore come dici le persone diciamo più forti che hanno questo campo elettromagnetico più potente quest'aura estesa quest'aura luminosa vengono attaccate direttamente con le armi quindi secondo me non sono scelti a caso penso che abbiano sì bisogno di fare degli esperimenti ma lo fanno per farci vivere peggio poi ho conosciuto diverse persone nelle mie amicizie che hanno avuto diversi TSO adesso ti parlo comunque di esperienze anche di altre persone però sempre nell'ambito delle mie amicizie e ho notato che comunque tutti loro avevano una storia particolare alle spalle uno di questi per esempio aveva il padre ora deceduto che faceva proprio parte della massoneria e guarda a caso il figlio se poi ha ammalato e ha avuto gravi disturbi psichici un altro mio amico aveva lo zio esorcista e aveva secondo i suoi racconti liberato alcune persone vittime dei complotti dei satanisti quindi dei massoni e mio ex ragazzo per esempio aveva il padre che anche lui è deceduto aveva condotto ricerche in campo spirituale aveva indagato su un'organizzazione criminale adesso non ti dico i dettagli perché non voglio essere prolissa anzi spero ci sarà occasione di poterci sentire meglio comunque tutti questi casi mi fanno pensare che ad essere bestagliate siano le persone che in qualche modo hanno dato fastidio al sistema o lo hanno fatto i loro familiari o che ancora sono persone che tendengono una qualche forma di conoscenza più approfondita rispetto a sapere comune e infatti come sai questi massoni per poter soggiogare al meglio il prossimo devono tenere gelosamente custodito il loro sapere in ogni campo nel campo della fisica della psicologia delle neuroscienze della geoingegneria della farmacologia e conoscenze misteriche spirituali è perché la conoscenza che rende libero l'uomo quindi hanno bisogno che il popolo sia tenuto nell'ignoranza o che sia distratto da ciò che realmente conta e che ci fa evolvere su più livelli quindi molto probabilmente tutte le cavie di questo progetto sono persone particolari perché particolarmente forti dal punto di vista anche psicologico oltre che magari a essere informate in qualche campo specifico o nell'avere indagato su temi scomodi e allora è come se noi o altre cavie avessimo un sistema immunitario e psichico più forte della media e quindi devono buttarci giù in questo modo perpetrando una tortura continua con le armi ad energia diretta e quindi ci tengono sotto d'occhio praticamente sempre dopo questa premessa posso descriverti brevemente quella che è la mia esperienza personale io per esempio ho notato che c'è qualcuno a distanza che è pilota sia me che sia le persone che interagiscono con me ho studiato tutto quello che poteva essere utile a risolvere questo enigma che comunque sono stata abbristagnata per molto tempo e ho notato e ho studiato che fanno leva su quelle che sono le nostre risposte automatiche e quindi controllate da quella parte del nostro cervello chiamato cervello rettiliano che è poi la parte più arcaica del nostro cervello hanno praticamente la chiave per entrare nel nostro subcosciente dove residono le emozioni e infatti ho notato anche che riescono a manipolare i sogni ed attaccano spesso di notte forse perché siamo meno vigili di notte quindi anche più indifesi e ho notato anche che l'orario notturno in cui di solito attaccano quando decidono di attaccare di notte è intorno alle 3 questo credo per ragioni inerenti al satanismo è quello che ho studiato e che i satanisti tengono molto in considerazione la numerologia e le 3 corrisponde ad un orario propizio per svegliare entità diabolica quindi non tutti i satanisti sono massoni ma tutti i massoni sono satanisti e non ti parlo del satanismo degli antichi sumeri oppure del movimento luciferiano della Blavaschio o ancora del satanismo razionale propagandato da Dimitri cioè ti parlo proprio di satanismo acido io ad esempio e la mia famiglia anche abbiamo spesso trovato tra i rifiuti dove cittavamo solitamente la spazzatura animali mozzati rinchiusi nei sacchetti gettati lungo la strada di casa dove abito io stessa da ragazzina ero anche minorenne tra l'altro ho subito delle molestie sessuali da parte di un satanista e adesso non scendo nei dettagli e questa persona mi disse esplicitamente che comunque mi stavano tenendo d'occhio anche se poi non fu chiaro affatto e quindi credo credo che attacchino verso le tre per motivi religiosi ora non mi voglio dilungare e spiegarti quelle che sono secondo me le loro intenzioni però quello che ho capito è che controllano le nostre emozioni e lo fanno perché sanno come manipolare il cervello rettiniano la sede dei nostri istinti primari e lo fanno con delle tecnologie basate sugli studi di Tesla di Nikola Tesla che è uno scienziato dell'Ottocento e ho notato che questa persona non viene neppure menzionata nei libri di storia ma nemmeno in quelle di scienza che si usano a scuola e Tesla però sosteneva delle cose importantissime che tutto ciò che esiste è una frequenza e che vibra tutto ad una determinata frequenza quindi anche i pensieri hanno una frequenza e possono essere codificati in una frequenza ecco per esempio loro leggono il pensiero perché leggono le frequenze emanate dall'attività del cervello e riescono a usare le persone come marionette non è una metafora tu lo sai le usano letteralmente come marionette le svuotano di libero arbitrio o comunque resta poco di libero arbitrio perché appunto danno risposte automatiche queste frequenze vengono sparate nei centri nervosi e quindi si ottiene l'effetto desiderato perché si fanno da padroni della nostra mente della nostra vita per esempio un'altra cosa che ho notato è che tutti dicono le stesse parole purtroppo ormai per forza tutte parole che comunque rimandano ad un'associazione negativa che la mente come sai funziona per associazioni ci sono delle ricerche che dimostrano questo e comunque mi sembrava strano tutte queste persone dicessero tutti la stessa cosa tutto lo stesso comportamento e atteggiamento e poi sbalzi di umore ma tante anomalie comportamentali ho notato ho notato molte cose e comunque il risultato che vogliono ottenere secondo me nella mia vita è quella del distacco sociale da ogni persona isolamento come poi ho sentito dire anche da altre persone vittime del controllo neurale e lo stroncamento di qualsiasi attività utile e costruttiva per migliorare la mia vita il lavoro lo studio qualsiasi cosa qualsiasi cosa positiva qualsiasi fonte di gioia perché poi fondamentalmente devono manovrarci attraverso emozioni di paura quindi metterci nella condizione di provare con le emozioni quindi vedendo il tuo parente a stare male vedendo il cane che si perde vedendo l'auto che ti rubano e tutte queste cose che comunque tutte queste cose esterne che loro creano secondo me per produrre cioè come obiettivo è quello di produrre un cambiamento nella persona e quindi non potendo agire direttamente a cambiare la persona cambiano tutto ciò che è esterno e perché poi sanno che ottengono un determinato risultato anche se sono comunque fallimentari però penso che per la maggior parte della gente funzioni e poi ho capito che si trattava di tecnologia che agiva a distanza ma ci sono anche delle ricerche degli esperimenti effettuati con gli stimo saver e si possono anche vedere in rete e comunque dimostrano che comunque quando viene montato questo apparecchio lo stimo saver sul cranio dell'animale l'animale sbadiglia oppure diventa aggressivo o docile o addirittura si addormenta a comando in base al comando appunto impostato dal telecomando a distanza della persona e questo è già una prova sufficiente e scacciante per farci capire di come sia semplice radiocomandarci perché basta agire su una particolare area localizzare la sua funzione capire come simolarla ed è contenuto l'effetto infatti anche come ti dicevo come già sai le parole hanno delle frequenze quindi è semplice far dire qualcosa a una persona e ci ci trasformano in robot non è fantascienza anche con me hanno provato ad abbassare le mie frequenze anche attraverso la simulazione di desideri sessuali che portano a immaginare qualcosa di perverso vabbè hanno provato a indurmi la paura in realtà penso di essere una cavia abbastanza resistente penso anche che forse qualche volta si saranno sorpresi però comunque hanno diversi metodi incrociati per cui utilizzano davvero così tante tecniche che sono quasi certi di raggiungere lo scopo ma quello che penso più di tutto è quello che già ti ho detto per me al di là di mafia militare mazzoneria o colletti bianchi sono comunque satanisti perché hanno una loro religione volta comunque alla distruzione e all'anichilimento dell'anima quindi per trasformarci appunto in zombie e in questo modo per fare di noi ciò che vogliamo tutto per servire questi pochi eletti che stanno al vertice io per esempio ho letto anche i libri di David Dyke che è un americano e anche un conduttore televisivo e lui spiega molto bene anche molte tecniche psicologiche che usano per esempio come la la dissociazione mentale la creazione di personalità multiple insomma ho letto comunque tante cose sono molte le tecniche che utilizzano e sono tanti anni che mi manipolano a fine di cercare di portarmi nella direzione opposta a quella che vuole la mia anima per me cioè la gioia invece vogliono vedermi crollare e secondo me non è un caso che comunque facciano tutti questi esperimenti su di me sulla mia famiglia e io comunque come te ho cercato di trovare in modo di studiare queste cose di averne le prove e anche di denunciare però il problema è che quando si fa una denuncia di questo tipo non c'è proprio la legislazione cioè c'è proprio un vuoto legislativo e burocratico forse bisognerebbe appellarsi alla corte dei diritti internazionali fare un ricorso ma fatto come si deve perché comunque se ci si rega la polizia vicina della propria città non sanno fare molto cioè non possono perché manca proprio la legislazione è comunque un'ottima cosa quella che fai secondo me di intervistare le persone e di cercare l'aiuto comunque degli esperti di medici e quant'altro e infatti io penso che c'è questo che bisogna fare e spero che comunque mi risponderai e di non averti annoiato anche perché la noia predispone alle basse frequenze e secondo me insieme se riusciamo a lottare senza renderci ma dico tutti tutte le vittime la soluzione si trova perché noi abbiamo una tecnologia interiore potentissima che è il nostro cuore che emana emana radiazioni potentissime emana onde elettromagnetiche potentissime che sono le frequenze dell'amore che tra l'altro la frequenza dell'amore è un'onda lunga quindi supera l'onda corta della paura per trovare un'armonizzazione proprio nel nostro essere in senso globale spirituale fisico emotivo e solo in questo modo secondo me possiamo veramente diventare padroni di uno stesse della nostra vita anche se comunque c'è sempre una burocrazia che non aiuta comunque spero anche di poter fare un'intervista con te perché sono davvero tante le cose che avrei da dire e dirle tutte in un audio così non posso anche perché sto parlando da sola quindi non sono ben stimolata quindi porto la mia testimonianza anche se soltanto a te di quella che la mia esperienza personale che comunque questa è una cosa reale e secondo me andrebbero proprio cambiati i parametri le teste di valutazione all'interno dell'ambito medico per capire chi è che effettivamente ha il problema nel senso che ha un delirio indotto da farmaci chi da armi psicotroniche chi realmente soffre di una forma di stress post-traumatica perché cioè lì il problema perché se una persona sta male reagisce come affidandosi alle istituzioni ma le istituzioni non sanno nemmeno di cosa stiamo parlando o meglio fanno finta perché non parlo dei medici o degli infermieri quelli così cioè parlo dei vertici più alti quindi la persona rischia soltanto di essere considerata in valida civile o magari di essere o peggio di essere inchiusa all'interno di un istituto però non è assolutamente una cosa giusta questa vabbè io ti saluto perché ho anche raggiunto mi sembra la mezz'ora che no non so da quanto tempo sto parlando però penso che ho già parlato abbastanza ciao Emiliano continuo a seguirti spero di sentire altro ancora e che fai insomma dei passi avanti ciao amici avete appena sentito l'audio messaggio di questa ragazza se volete contattarmi direttamente potete contattarmi sul mio canale pubblico di facebook Emiliano Babilonia Italia oppure sub-messanger Emiliano Babilonia Italia o attraverso la mia email vittime del controllo neurale chiocciola gmail punto com o attraverso